Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video dedicato al mondo Apple. Voglio fare un rapido video, anche per colmare nuovamente il silenzio del canale, per farvi vedere come faccio per difendermi dai call center. Diciamo le cose come stanno. Chi di noi non è mai stato chiamato da un call center perché c'è la promozione sulla tal operatore, o perché l'aspirapolvere ha un'offerta speciale, o perché c'è quell'azienda del gas che vuole offrire una promozione. Ogni tanto succede, anzi spesso succede, perché ormai siamo arrivati a un punto in cui ogni giorno suona il telefono con numeri sconosciuti, sempre diversi, per cui non serve nemmeno bloccare i numeri, o meglio, serve ma non più di tanto, perché ogni volta ti chiamano sempre con dei numeri diversi. Come faccio io? Perché ero arrivato a un punto di non ritorno, cioè l'esasperazione più totale. Vi faccio vedere una rapida opzione di iPhone che nella maggior parte dei casi serve per arginare il fiume in piena di chiamate di call center. Questo dopo la sigla. Allora ragazzi, telefonate indesiderate. Come faccio io per difendermi? C'è un'opzione molto semplice. Bisogna andare nelle impostazioni dell'iPhone, scorriamo giù fino a trovare l'applicazione telefono, che è ovviamente quella interessata. Ecco qua, vedete, telefono. Ci entriamo, scorriamo in fondo fino a che troviamo un particolare bottone. Vedete, qui dice silenzio a numeri sconosciuti. Dovete fare in modo che questo sia attivato. Io, come vedete, ce l'ho attivato perché da svariati mesi l'ho attivato. L'unica cosa a cui dovete stare leggermente attenti è ricordarvi di deselezionarlo nel caso aspettiate una telefonata di qualcuno che non è nella vostra rubrica ma che non è una chiamata spam, che ne so, un fornitore particolare, un corriere che deve consegnare un pacco in giornata, eccetera, eccetera. Ma io, a parte questi casi qui, lo lascio sempre selezionato e attivo perché questo mi risolve un sacco di problemi. Guardate, se vi faccio vedere, vi faccio vedere rapidamente le mie chiamate perse. Guardate qua, queste sono solo negli ultimi giorni e solo negli ultimi giorni. È una cosa incredibile. Io da quando ho scoperto questa opzione non la disattivo mai per nessuna ragione al mondo. Veramente mi ha salvato la vita. Ripeto, state solo attenti se aspettate una chiamata di qualcuno che per qualunque ragione non è nella vostra rubrica, che ne so, anche l'idraulico del condominio, qualunque persona che non è una chiamata spam ma non è parte dei vostri contatti registrati sul telefono. Questo ovviamente per iPhone. Probabilmente c'è un'opzione del genere anche per dispositivi Android, ma io non la conosco perché ovviamente è da troppo tempo che uso solo iPhone. Spero che possa esservi utile, ragazzi. Non tutti conoscono l'esistenza di questa particolare opzione. Io, devo dire la verità, ero un po' titubante all'inizio perché avevo paura di perdere qualche chiamata importante per qualsivoglia motivo, però devo dire che non mi è mai successo ormai un po' di tempo che la tengo attivata e non è mai avuto nessun problema. Anzi, mi ha veramente salvato molte giornate da esaurimenti nervosi di vario genere. Spero che possa esservi utile. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi.